Il 12 giugno del 49 si conclude a Monza il Giro d'Italia. Nella memoria nazionale resterà scolpita la frase pronunciata dal giornalista Mario Ferretti in occasione della terza, terz'ultima tappa del Giro, quando Coppi percorse in fuga solitaria 192 chilometri. Un uomo solo è al comando, disse il giornalista, e quell'uomo solo al comando rimase nell'immaginario collettivo e tuttora è presente. È interessante notare come un'espressione che nel mondo sportivo e ciclistico è elogiativa e positiva, nel mondo politico da un po' di tempo a questa parte abbia assunto un'aura negativa. L'uomo solo al comando è considerato quasi denigratorio da dire ed è un errore, perché i leader sono sempre uomini soli, la differenza la fa il fatto che sappiano vincere o perdere, che sappiano convincere chi gli sta attorno a seguirli. Il resto è politicamente corretto, il resto è conformismo.